Si sarebbe appropriato indebitamente di 750.000 euro effettuando in 10 anni prelievi bancari in qualità di curatore fallimentare. Finisce agli arresti domiciliari un commercialista tarantino di 50 anni accusato di peculato e falsità materiale, commessa da pubblico ufficiale, aggravata e continuata. Secondo quanto emerge dalle indagini dei finanzieri coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, l'uomo pubblico ufficiale in quattro procedure fallimentari dal 2012 al 2021 avrebbe effettuato prelievi bancari dei conti intestati alle procedure fallimentari, emesso a segni circolari a suo favore giustificati dalla falsa copia dei relativi mandati di pagamento, ma secondo gli investigatori mai depositati agli atti della procedura. Oltre alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e immobili dell'importo di 750.000 euro.